Jai Shira Jai Shira Stai ascoltando il podcast Ramayana per gli yogi moderni Prima stagione, Adikanda Namaste da Prem e benvenuti nel 62esimo episodio della nostra serie podcast Ramayana per gli yogi moderni diciamo che abbiamo concluso un'importante sezione di questo Adikanda, di questo libro che parla dei primi passatempi di Ramachandra, delle prime avventure di Ramachandra e ora ci stiamo accingendo in qualche modo ad aprire un'altra sezione che io chiamerei la storia di Vishwamitra infatti da qua in poi Vishwamitra prenderà il ruolo più importante in questa storia perché ne scopriremo la storia, scopriremo il passato di Vishwamitra ad esempio probabilmente alcuni di voi sanno che Vishwamitra prima era un grande re ma divenne nel corso del tempo un grande saggio il saggio che possiamo osservare adesso un saggio in grado di poter contattare e partecipare di questi lila di questi passatempi, di questi incontri e di questa relazione con l'assoluto in questa forma molto intima addirittura Vishwamitra diventerà il secondo guru di Rama dopo Vajishta dunque in questa sezione vedremo che i tre, Rama, Lakshman e Vishwamitra andranno verso Mithila, questa importantissima capitale del regno di Janakmaraj e vedremo anche questo personaggio, un personaggio incredibile considerato uno dei dodici Mahajana ovvero una delle dodici grandi personalità di cui se tu studi l'incredibile, la vastissima letteratura vedica puoi andare certo che tutto ciò che dice Janakmaraj è completamente allineato ai più alti valori perché i Veda sono multilivello nella letteratura indovedica puoi trovare di tutto e di più perché questa letteratura parla a differenti livelli a differenti persone a seconda del livello di coscienza delle persone ad esempio nei Purana la letteratura chiamata antica la storia antica troviamo Purana che sono in Tamaguna che hanno lo scopo di portare le persone dalle tenebre dell'ozio all'azione ci sono Purana che sono in Ragiaguna che servono per portare le persone che sono immerse nei desideri nelle bramosie a uno stato di pace interiore e poi abbiamo i Purana e i Satvaguna che hanno lo scopo di portare queste persone che hanno trovato uno certo equilibrio una certa pace nella loro vita a poter accedere alla dimensione spirituale trascendente e mistica andare oltre la religione per accedere al misticismo sicuramente il Ramayana è proprio un libro dello yoga quindi è un libro che si situa in questa terza dimensione il Ramayana ha questo potere di portare un piano superiore di coscienza la vita non è nient'altro che un campo scuola dove c'è richiesto di innalzare il nostro livello di coscienza la nostra consapevolezza e il Ramayana attraverso le sue avventure attraverso questi personaggi in questo caso in questa sezione vedremo proprio Visio Amitra aprono le porte a importantissime riflessioni che non solo gli yogi moderni ma tutta l'umanità dovrebbe farsi domande fondamentali domande che sono essenziali e allo stesso tempo grazie a Ramayana possiamo appassionarci della storia principale seguendo Rama, seguendo Sita seguendo in questo caso Visio Amitra in questo percorso possiamo innamorarci delle tante storie corollarie come vedremo adesso sarà raccontata a breve la storia del Gange e tanti dettagli e tante interessanti realizzazioni di questi personaggi quante metafore quante descrizioni psicologiche possiamo trovare nel Ramayana ognuno di questi frammenti è anche un frammento della nostra vita a volte quel personaggio siamo noi altre volte è il nostro vicino altre volte è la persona con cui collaboriamo o altre volte è quella persona che è invidiosa di noi nel Ramayana ci sono tanti frammenti e questi frammenti di personalità questi frammenti di filosofia di psicologia di etica si dispongono semplicemente in modo diverso nelle nostre vite come se fossero un caleidoscopio di colori che in ogni vita prendono un differente posizionamento ma sono sempre quelli sono sempre quei modelli sono sempre quelle tipologie di persone sono sempre quelle situazioni che si ripetono ma con infinite variazioni quindi ognuno di noi può trovare la propria vita scritta all'interno del Ramayana e quando noi padroneggiamo questi frammenti quando noi abbiamo capito il modo di agire luminoso dello yogi e in questo caso dello yogi moderno quando abbiamo compreso in profondità il carattere la personalità che vogliamo giocare in questo ruolo della vita allora non importa come questi piccoli frammenti si posizionino nella nostra vita non importa con che combinazione saremmo in grado di risolvere il puzzle della nostra esistenza il Ramayana è un incredibile aiuto a fare questo ok ma non voglio prendervi più tempo con le mie riflessioni e iniziamo subito la lettura come sempre e come sapete bene dobbiamo recitare prima il Palashruti questa storia rende puri distrugge tutta la negatività ed è di buon auspicio ed è in linea con gli insegnamenti dei Vedam chi legge o recita la biografia di Rama si libera da tutto ciò che è male questo racconto assicura lunga vita la persona che recita o ascolta il Ramayana prospera e così i figli e i figli dei suoi figli e dopo la morte è gloriosa anche in cielo chi legge o ascolta il Ramayana se è un bramana l'intellettuale acquisterà eccellenza nella parola se è uno shatra il leader politico otterrà vittoria e sovranità sulla terra se è un vaisha l'imprenditore avrà prosperità nel commercio e se è un shudra il lavoratore dipendente otterrà grandezza nel suo lavoro stiamo leggendo del Ramayana dal primo libro chiamato Adikanda siamo al capitolo 34 intitolato La sosta sulla riva dello Shona così i due eroi Rama e Lakshman compiuta la loro impresa vi ricordate l'impresa di uccidere i due Asura Marisha e Subao e quindi di permettere a Vizionamita di compiere il suo sacrificio passarono lì la notte nell'eremo Sidashram felici e onorati dagli eremiti interessante perché gli eremiti erano superiori per quanto riguarda l'etichetta a Rama e Lakshman ma onorarono e furono felici della loro impresa e investirono i due di incredibili benedizioni quando la notte cominciò a schiarire era l'alba i due discendenti di Raghu Rama e Lakshman eseguirono innanzitutto i riti mattutini quindi fecero le loro abluzioni si lavarono pulire nel loro corpo e pulirono la loro mente attraverso i mantra attraverso la meditazione qui dopo aver concluso i loro rituali il loro sadhana si chiama in sanscrito sadhana la loro pratica personale poi andarono a rendere omaggio a Vishwamitra e agli altri veggenti salutati tutti gli eremiti i due giovani di immortale splendore pensate quanto erano belli considerate che rilievo veniva dato nel Ramayana in questo testo antico in questo tentativo in questo desiderio di sottolineare la bellezza di questi due personaggi ci sono tanti personaggi che probabilmente erano belli di bell'aspetto nel Ramayana ma notate quanto in qualche modo viene sottolineata alla bellezza di Ramayana e di Lakshman perché? perché quel tipo di bellezza è una bellezza divina questi due personaggi Ramayana e Lakshman erano Vishnu quindi splendevano di una bellezza non umana al di là dell'umano e notate come seppur il potere dell'assoluto il potere di Vishnu fosse in qualche modo celato fosse in qualche modo nascosto a questi eremiti che comunque vedevano Ramayana come dei bellissimi ragazzini da istruire e da amare attraverso questo sentimento parentale non fosse celata la loro bellezza il loro fascino questo splendore di una purezza incredibile pensate gli eremiti e Vasishtha quando osservavano Rama sentivano come se il loro cuore fosse stato lavato da un'acqua incredibilmente purificante sentivano una dolcezza nel loro cuore una dolcezza di una purezza indescrivibile quindi Ramayana più e più volte spiega che questi due giovani avevano uno splendore una bellezza una lucentezza divina immortale questi due giovani erano la gioia della stirpe di Ragu e quindi Rama e Lakshman dissero queste parole dolci e nobili mentre stavano proprio parlando con questi grandi saggi ecco qui davanti a te tigre fra gli eremiti o Vishwamitra i tuoi servitori i tuoi servi quindi Rama e Lakshman proprio come esemplari discepoli si sentivano i servitori del loro maestro comanda quel che desideri da noi che cosa possiamo ancora fare quindi Rama e Lakshman che avevano appena compiuto questa gesta questa incredibile gesta andarono dal loro guru per chiedergli cosa possiamo ancora fare per te come possiamo ancora servirti questa attitudine al servizio è tipica delle persone elevate mostra il desiderio di fare qualcosa di benefico per gli altri e per l'umanità senza desiderare onori personali udite queste parole i veggenti tesoro di ascesi è interessante perché i veggenti erano considerati come una banca che accumulava ascesi e quindi crediti spirituali quindi erano come il tesoro di ascesi guidati da Vishwamitra così parlarono a Rama così gli risposero sentite bene perché è fondamentale Janaka re di Mitila Janaka era quel personaggio che vi ho spiegato era un re incredibile aveva raggiunto la saggezza che si ottiene praticando con piena sincerità lo yoga semplicemente perseguendo il suo dovere di re e spiritualizzando la sua leadership la sua posizione Janaka era un leader perfetto ed era il re di questa città di questo regno chiamato Mitila quindi Janaka si accinge a celebrare un devotissimo e santissimo sacrificio vi ricordate anche Dajalat compì un sacrificio era una pratica fondamentale per i re compiere questi sacrifici per il benessere del popolo per il proprio benessere spirituale e anche per il benessere in qualche modo dell'universo perché i sacrifici facevano parte di un'economia universale che è spiegata nella ghita i deva beneficiavano gli esseri celesti beneficiavano del sacrificio e rispondevano in gratitudine offrendo un equilibrio cosmico un equilibrio per quanto riguarda il meteo il clima del pianeta che poi permetteva ai regni della terra di poter prosperare ora questi grandi sacrifici non si compiono più e infatti la terra è totalmente disinclina a fornire l'equilibrio necessario affinché ogni cosa proceda nel modo più equilibrato possibile nel modo migliore possibile anzi madre terra in questo periodo in questo momento storico si sta proprio ribellando allo sfruttamento umano il sacrificio era anche un atto di consapevolezza in cui il re insegnava il rispetto per la natura così questo re si stava accingendo a compiere un santissimo e devotissimo sacrificio e quindi Vishwamitra continuò e noi io te io Vishwamitra te Rama e Lakshman ottimo tra i discendenti di Ragu o Rama andremo ad assistervi tu pure tigre fra gli uomini verrai con noi quindi anche tu Rama e anche tu Lakshman verrete con noi e lì ci compiacerai vedendo un arco grande e meraviglioso unico nel suo genere quindi andremo là in questo regno di Mitila siamo dei saggi Vishwamitra sta parlando da parte sua e da parte degli altri eremiti nell'eremo di Sidashram e come mai Vishwamitra parla anche per conto degli altri eremiti vi ricordate Sidashram era proprio l'eremo la casa di Vishwamitra quindi tutte le persone che abitavano a Sidashram in realtà erano suoi discepoli quindi ovviamente lui stava parlando anche in virtù dei suoi discepoli che erano entusiasti di fare questa trasferta insieme al loro maestro e così anche Rama e Lakshman erano annoverati tra questi discepoli e quindi Vishwamitra li sta invitando ad andare a Mitila a Mitila conoscerete questo grande re il re Janaka e ci sarà tanto da imparare riguardo alla sua figura ma non solo in questo regno nel regno di Janaka c'è un arco poderoso immaginatevi Rama e Lakshman a differenza degli altri discepoli di Vishwamitra erano dei guerrieri erano dei Chiatria gli altri discepoli di Vishwamitra erano dei Brahmana quindi più interessati ai mantra più interessati alla meditazione più interessati alle scritture ma invece immaginatevi quanto poteva interessare a uno Chiatria a un guerriero a un principe come Rama vedere un arco leggendario perché questo arco che era sotto la custodia di Janaka Maraj del re Janaka era un arco mitico un arco leggendario quindi anche solo andarlo a vedere significava andare a vedere qualcosa di incredibile e quindi per stuzzicare il loro interesse vi ricordate che Vishwamitra aveva anche un altro desiderio voleva maritare Rama e Lakshman ma questo per adesso non glielo ha detto vediamo se glielo dirà poi ma per stuzzicare l'interesse di Rama e di Lakshman questi virtuosi guerrieri inizia a narrargli la storia di quest'arco e quindi Vishwamitra continuò si narra che tanto tempo fa furono gli dei cappeggiati da Vasava Vasava Indra a consegnare in deposito al re al re Janaka il re di Mitila quel grande arco quando fu terminata la battaglia tra dei e Asura ecco tra Deva tra esseri celesti e Asura demoni o tenebrati ecco qua si allude alla grande guerra che contrappose Deva e Asura per il possesso dell'Amrita dell'Ambrosia il nettare dell'immortalità è interessante qua c'è una nota che ci spiega che leggeremo nel 46esimo capitolo la storia della lotta tra Deva e Asura quindi tra qualche capitolo adesso siamo al 34 nel 46 parleremo della lotta tra Deva e Asura quindi chi non la conosce tra di voi la potrà sentire più avanti è narrata anche nello Sriman Bhagavatam mentre la storia del mitico arco conservato da Janaka è narrata nel 68esimo capitolo di questo libro quindi avremo più dettagli adesso è proprio solo uno spunto probabilmente quando arriveremo a Mitila ci verrà raccontata nel dettaglio questa storia e Vijayamitra continuò negli dèi negli esseri celesti negli Gandharva gli angeli negli Yaksha i spiriti della natura negli Naga i serpenti o i Rakshasha come Ravana come Vibishana come i Rakshasha Marice Subao che abbiamo visto precedentemente ecco nessuno di questi esseri divini o tenebrati sono capaci di tenerlo quindi quest'arco è talmente mitico talmente potente talmente fuori dal comune che neanche esseri estremamente elevati o dotati di incredibile forza sono capaci di tenerlo in mano quindi Vijayamitra continua tanto meno vi possono riuscire le altre creature gli esseri umani i sovrani che hanno voluto saggiare il valore di quell'arco quindi che ci hanno tentato non sono riusciti neanche a sollevarlo che dire di tenerlo quindi i dèi i Gandharva gli Yaksha i Naga i Rakshasha che hanno un potere sovraumano alcuni di loro sono riusciti a sollevarlo ma poi l'hanno dovuto subito riappoggiare perché era troppo pesante troppo difficile per loro ma gli esseri umani non importa che fossero grandi sovrani non sono riusciti neanche a sollevarlo e qui Vijayamitra continuò dicendo ebbene tu tigre fra gli uomini vedrai quell'arco al sacrificio del magnanimo re di Mitila poiché discendenti di Kakuzza o Rama verrai lì con noi wow con una premessa del genere immaginatevi un grande saggio che viene da voi e vi dice andiamo a vedere un arco leggendario si trova in quel posto là ha una storia mitica quell'arco è stato toccato da dei da Gandharva da Yaksha da Naga da Rakshasha e nessuno è riuscito neanche a tenerlo ci hanno provato i grandi re della terra e nessuno è riuscito a sollevarlo cosa ne dite verreste anche voi beh sicuramente se siete yogi moderni sareste entusiasti di venire quindi Rama animo nobile acconsentì e si preparò a partire con i grandi veggenti guidati da Vijayamitra allora il beato Vijayamitra evocò le divinità della foresta e poiché si accingeva a partire per Mitila pronunciò queste parole nella cultura vedica tutto è animato e la casa di Vijayamitra era un eremo che stava nella foresta allora invocò le divinità degli alberi le divinità dei laghi le divinità della foresta in modo che proteggessero e tutelassero il suo eremo e poi pronunciò queste parole addio vi auguro ogni bene io ho perfettamente conseguito il mio scopo e adesso partirò dall'eremo perfetto vado verso la riva settentrionare della Janavi alle giogaglie dello Himavat ecco qua il fiume Janavi è proprio il Gange e alle giogaglie dello Himavat stiamo parlando dell'Himalaya detto questo l'eremita fece il paricrama intorno all'eremo perfetto quindi l'eremita girò reverente attorno all'eremo perfetto tenendolo alla propria destra poi si rivolse a settentrione e iniziò il cammino quindi quando si fa un paricrama quando si gira intorno a una montagna sacra a un luogo sacro in segno di rispetto di solito si tiene la propria spalla destra verso quel luogo e quindi si gira in senso orario e quindi poi si girò e andò verso settentrione in quello stesso istante apparvero cento carri per bramani già giogati carichi del necessario che si mossero davanti agli eremiti mentre le schiere di bestie feroci e di uccelli che dimoravano che dimoravano presso l'ermo perfetto scortavano il grande eremita Vishwamitra che partiva guardate come gli uomini erano integrati nella natura Vishwamitra che era un grande saggio e quindi un esempio un maestro che aveva tanti discepoli era talmente integrato nella realtà nel cosmo nell'ambiente in cui viveva che le divinità e gli animali della foresta lo seguivano salutandolo mentre lui partiva salutavano la sua partenza con gli stessi onori che sono in genere riservati ai re ora nella società in cui viviamo siamo così disconnessi da madre natura viviamo in delle scatole di cemento armato e usciamo da una scatola di cemento armato per entrare in un'altra scatola di cemento armato ad esempio per andare a comprare i nostri generi alimentari per comprare i nostri vestiti o per andare a trovare altre persone ci riuniamo in scatole di cemento armato ci incontriamo in scatole di cemento armato e siamo pochissimo a contatto con madre natura guardate quanto Vishwamitra era in contatto con la natura e quanto la natura reciprocava nei confronti di Vishwamitra percorso un lungo cammino vi ricordate quindi c'era Vishwamitra c'era Rama c'era Lakshman e tutti i discepoli eremiti di Vishwamitra mentre l'astro del giorno declinava la comitiva degli eremiti si fermò sulla riva dello Shona è un fiume e vi allestì un accampamento quindi mentre stava tramontando il sole si fermarono sulle rive di questo fiume e crearono un accampamento quando poi l'astro diurno fu tramontato gli incommensurabilmente splendidi eremiti si bagnarono bruciarono le offerte nel fuoco sacrificale e si sedettero attorno a Vishwamitra quindi il sole tramontò questi splendidi eremiti fecero un bagno serale nel fiume Shona fecero un fuoco sacrificale in cui offrirono le loro offerte e poi si misero tutti intorno a Vishwamitra per ricevere eventuali istruzioni insegnamenti o per ascoltare dei meravigliosi racconti anche Rama insieme col figlio di Sumitra ovvero insieme a Lakshman rivolse il suo saluto a Vishwamitra tesoro di ascesi e animo nobile questo è Vishwamitra e si sedettero attorno a lui quindi Rama tigre fra gli uomini congiungendo rispettosamente le mani e pieno di curiosità chiese al vergente Vishwamitra beato che regione è questa è abitata da gente prospera ti prego grande remita rivelamelo in verità quindi Rama colse proprio l'occasione vedendo che Vishwamitra era l'asseduto beato insieme ai suoi discepoli e tutti erano con le orecchie aperte per sentire un racconto una storia un'istruzione un'insegnamento dal loro maestro e Vishwamitra è descritto come tesoro di ascesi e di animo nobile qui tutti stanno aspettando un racconto da Vishwamitra così lo splendido Vishwamitra su richiesta di Rama cominciò a raccontare per esteso la storia di quella regione ma lo vedremo la prossima puntata Jai Shira